Rimbalzo di Milano dopo le tre sedute di forte correzione sui mercati globali. Il Futsi Midb chiude in rialzo di quasi il 3% ed è la migliore degli indici europei. Sul paniere di Milano recuperano in particolare Fiat Chrysler, Ricordati e Tim, che sale del 6% anche sulla scia delle buone prospettive dello scorporo della rete. La borsa di Wall Street, dopo l'avvio in territorio negativo, gira in rialzo e si lascia apparentemente alle spalle le giornate di forte sell-off.